In occasione delle festività natalizie della Domenica della Santa Famiglia di Gesù Maria Giuseppe, il coro parrocchiale della Cattedrale di Isernia ha ideato e proposto un recital che, con la collaborazione dei giovani, dei ragazzi dell'oratorio e del gruppo famiglie, ha preso il titolo di Cuori in Festa, una serie di disibizioni canore dai più grandi ai più piccoli, con rappresentazioni anche figurative delle melodie cantate, come vediamo in queste immagini. Alla rappresentazione molto ben curata e coordinata dal parroco della Cattedrale Don Claudio Palumbo e da suortina dell'oratorio diocesano, ha assistito anche il vescovo Monsignor Visco, che è venuto dalla sua nuova sede di Capua, proprio per seguire la bella manifestazione organizzata nella Cattedrale. Grazie. 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 Grazie.